Dalla conferenza dei capigruppo dello scorso 10 febbraio il presidente del consiglio Giovanni Magri ha convocato il consiglio comunale in seduta ordinaria per il 16 febbraio alle ore 18 e 30. Tra i punti all'ordine del giorno spicca la mozione per la destituzione dalla carica assessoriale del vicesintaco Grazio Gianmusso e dell'assessore Fabio Caracausi presentata dal consigliere comunale Gianluca Bruzzaniti e firmata da tutti i capigruppo dell'opposizione. Altri punti di interesse notevole sono le approvazioni dei regolamenti per le istituzioni delle figure del garante della disabilità e del garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza presentata dal consigliere Angela Caruso. Per queste ultime due mozioni abbiamo ascoltato l'assessore in merito Cettina Andaloro mentre Grazio Gianmusso e Fabio Caracausi in una nota hanno dichiarato che chi amministra è chiamato a rispondere delle proprie attività politiche e il civico consesso e il luogo deputato per dare ambia visibilità alle azioni intraprese dall'aggiunta fin dal primo giorno dell'insediamento. A Caltanissetta mancavano queste due grandi figure, importantissime che sono anche segno di civiltà. La figura del garante per la disabilità e la figura del garante per l'infanzia. Sotto devo ringraziare la consigliera Angela Caruso per aver presentato tutte e due le mozioni e ho dato mandato all'ufficio di preparare i regolamenti, i regolamenti che sono stati minimati dalle commissioni e ora andranno giorno 16 all'approvazione del consiglio comunale. per me è stato anche un valore aggiunto e un valore aggiunto per la città.